Voi come corpo, visto che lei è anche agente della Polizia Locale di Padova, siete favorevoli al taser? Oltre un anno fa è stata fatta una raccolta firma all'interno del reparto Polizia Giudiziaria e Sicurezza Urbana che è stata recapitata tramite il comando all'amministrazione già oltre un anno fa. Ma noi come Will FPL siamo totalmente d'accordo alla sperimentazione, perché di sperimentazione si tratta, di due taser per turno, la Polizia Municipale ormai dal 2000 fa servizio H24 e sarebbero in buona sostanza due taser per turno che andrebbero a coprire l'intera giornata. Pronti all'uso del taser gli agenti del corpo della Polizia Locale di Padova che sul punto già avevano avviato un dialogo con l'assessore Diego Bonavina. Se in questo momento l'amministrazione Giordani è frenato sul tema, i vigili restano fermi sul punto e ricordano. Noi abbiamo sia la pistola, praticamente da sempre, da quando è stato fondato il corpo, abbiamo la bodycam che abbiamo avuto grazie a questa amministrazione, anche se il percorso era iniziato un po' prima e abbiamo lo spray urticante al peperoncino, che devo essere sincero, quello è una dotazione individuale, quindi ogni operatore ha la dotazione individuale di pistola, che a mio parere è decisamente più impattante, molto più, passatemi il termine, pericolosa rispetto al taser. Sono in aumento le aggressioni nei confronti degli agenti, ricorda Scarpelli, che aggiunge come la Polizia Locale sia impiegata anche in servizi di ordine pubblico. L'uso del taser ormai è praticamente diffuso, diversi comandi d'Italia ne hanno già adottato la sperimentazione, ma di fatto hanno superato la sperimentazione a memoria, ricordo, Pordenone, ma anche Venezia. È sicuramente un sistema di protezione, a favore ovviamente dei dipendenti di questa amministrazione, ovviamente speriamo possa essere adottato, e nella cittadinanza. Nel momento in cui ci sono degli eventi, ovvero degli individui evidentemente esagitati, particolarmente violenti, allora va da sé che lo spray urticante in quei casi può anche fallire nella sua efficacia, ma il taser evidentemente no. Lei e i suoi colleghi siete pronti? Siamo pronti, perché comunque andrebbero formati circa un gruppo ristretto di operatori, quindi dormirei sono tranquilli.